dall'asl salerno nuovo stop alle visite specialistiche e agli esami diagnostici sono finiti di nuovo i fondi inevitabili i problemi per gli utenti che avevano effettuato le prenotazioni ferme già da ieri cardiologia medicina nucleare radioterapia e radiologia con inevitabili problemi per gli utenti che avevano effettuato le prenotazioni e che hanno dovuto pagare la prestazione o inserirsi nelle liste d'attesa delle strutture pubbliche entro domani in ogni caso si fermeranno quasi tutte le branche a eccezione dei laboratori di analisi a meno di riconteggi da parte degli uffici dell'asl di via nizza salerno che potrebbero garantire qualche altro giorno di tregua al momento è previsto per il giorno 30 lo stop alle visite specialistiche e diabetologia mentre per gli esami del sangue e delle urine l'alt dovrebbe scattare lunedì prossimo godranno ancora di qualche convenzione gli utenti che devono effettuare gli esami del sangue e delle urine dove l'alt è previsto per i salernitani lunedì prossimo e per quelli provenienti dalle altre province il 7 giugno